Stasera andiamo al cinema Stasera si va al cinema Arriviamo a casa alle 10 Si arriva a casa alle 10 Studiamo le lingue classiche Si studiano le lingue classiche Si fermano due giorni in città Ci si ferma due giorni in città Devono essere puntuali Si deve essere puntuali Si svegliano presto la mattina Ci si sveglia presto la mattina Devono essere fatti dei compromessi Si devono fare dei compromessi Possono essere trovate altre soluzioni Si possono trovare altre soluzioni Devono abituarsi a questo orario Ci si deve abituare a questo orario Ci vuole una penna per scrivere Ci vogliono 10 minuti per andarci In vacanza bisogna guidare un po' Per il dolce ci vuole lo zucchero Per sciare ci vuole la pista di neve Bisogna uscire di casa più spesso Ci vogliono tanti giorni di vacanza Bisogna telefonare al dottore Ci vuole tempo per cucinare Ci vogliono dei vestiti nuovi Per la festa ci vogliono gli amici Bisogna fare il pieno all'auto Per studiare ci vuole impegno Sull'albero ci vuole una stella Bisogna chiamare la nonna Ci vogliono molti ingredienti Bisogna invitare Paolo e Luca Ci vogliono un libro e una penna Ci vogliono un libro e una penna Bisogna comprare la pasta Bisogna evitare la tua collega Ci vogliono dei giornali nuovi La polterona è comoda Le polterone sono comode Il letto è bello e grande I letti sono belli e grandi La camera è piccola Le camere sono piccole Il libro è lungo e noioso I libri sono lunghi e noiosi Tutto il giorno Tutti i giorni Che bella casa Che belle case Tutta la notte Tutte le notti Il cavallo nero Il cavallo nero I cavalli neri La caravatta nero La caravatta nera Le caravatte nere La caravatta verde Le caravatte verdi L'altra volta L'altra volta Le altre volte Questo signore Questi signori Questa signorina Queste signorine Un reparto Dei reparti Un sapone Dei saponi Un euro Degli euro Il cieco I ciechi Lo specchio Gli specchi Degli euro La vacanza Le vacanze Il dottore I dottori La testa Il collo Il collo Il collo La spalla La spalla Il braccio Il braccio Il braccio La schiena La schiena La gamba La gamba La gamba Il piede Il piede Il piede Le dita Le dita Le dita Il pollice Il pollice Il pollice L'indice 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 Il mignolo Il pollice 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 Prendere, prendevo, ho preso. Mettere, mettevo, ho messo. Vivere, vivevo, ho vissuto. Tenere, tenevo, ho tenuto. Chiudere, chiudevo, ho chiuso. Bere, bevevo, ho bevuto. Chiedere, chiedevo, ho chiesto. Ci piace andare in discoteca il sabato. Ci piacciono le vacanze con gli amici. Mi piace l'Italia perché è un bel paese. Non mi piacciono i concerti in piazza. Le piace uscire quando non ha scuola. A loro piace andare spesso al cinema. Gli piace molto giocare a calcio. A loro piacciono i dolcetti al limone. Non ti piace molto stare a casa. Non le piacciono le partite di calcio. Gli piacciono le gare di automobili. Ci piace molto andare in montagna. La musica italiana mi piace molto. Questa casa non mi piace per niente. Appena lo incontri, digli di telefonarmi a casa. Luca insiste finché non ottiene ciò che vuole. Quando furono tornati, andarono a dormire. Dopo che furono tornati, andarono a dormire. Quando hai telefonato, lei era già andata via. Prima che tu lo venga a sapere da lui, te lo dico. Non guarirai finché non faremo un viaggio. Quando decidete di uscire, fatemelo sapere. Non passerà l'esame finché non si impegnerà. Dopo che fu uscita di casa, vide un'auto rossa. Si addormentò prima che il film terminasse. Appena ebbe finito di cenare, beve un caffè. Quando arriverà l'estate, andrò in vacanza. Ho studiato finché mi sono addormentato. Dopo che ebbi fatto la spesa, iniziai a cucinare. Gliel'ho detto ieri sera dopo cena. Non riesco a farglielo ammettere. Il progetto glielo porto domattina. Se ti piacciono, te ne compro due. Il ladro non è riuscito a rubarmelo. Diglielo appena vi vedete domani. Se hai l'acqua, gliene dai un po'? Se me lo chiedesse, glielo direi subito. Hai i guanti stretti, non può toglierseli. Dicendotelo mi sento già meglio. I libri me li darai domattina a scuola. Tranquillo, non devi preoccupartene. Di biscotti non ce ne sono più. Fateci trovare la macchina pulita. Sono di Napoli. Vengo da Napoli. Vengo dall'Italia. Questa casa è di Paolo. Queste auto sono della Tesla. Questo vestito è di due anni fa. Questo treno viene da Milano. La mia amica viene da casa sua. Vorrei bere qualcosa di fresco. Vorrei qualcosa da bere. Non ho niente da fare. Ho una casa piena di libri. La frutta è ricca di vitamine. La macchina è guidata da lui. Vado via di qua. Vado via da qui. Usa dei tovaglioli di carta. Gli ho detto di fare silenzio. Vado a scuola di mattina. Da domani sarò in vacanza. Quella giacca è di Claudia. Se sei stanco, vai a letto. Se nevica, non vado a passeggiare. Se non si sbriga, perde l'autobus. Se bevi così tanti caffè, ti innervosisci troppo. Se vieni a trovarmi, ti dico le ultime novità. Se partiamo subito, non troviamo sicuramente traffico. Se vai in città, dimmelo che vengo con te. Se tornate in tempo, mangiamo insieme. Se questo libro ti piace, te lo regalo. Se ha la febbre, deve rimanere a letto. Se studierai di più, riuscirai a preparare più esami. Se a Natale avremo un po' di ferie, andremo a sciare. Se mi promette che guiderà piano, andrò in macchina con lui. Se la prossima settimana sarò ancora malata, andrò dal dottore. Se saranno buoni, li porterà al parco. Se avesse più tempo, rimarrebbe qualche giorno in più a Roma. Se Pino ascoltasse i suoi consigli, si troverebbe meglio. Se non prendesse l'ombrello, si bagnerebbe completamente. Se gli esercizi non fossero così difficili, finirebbe prima i compiti. Se non avesse un altro impegno, ti chiamerebbe volentieri.